benvenuto a un nuovo video di Sistema Italiano buongiorno a tutti quanti oggi vado a rispondere a una domanda di Rino San che sotto il video di chi ha cancellato un file su windows mi ha chiesto di fare la stessa cosa per linux e adesso lo vediamo ovviamente lui lo chiede con open led up ma è la stessa cosa perché una volta che un utente su linux è autenticato prende comunque in Ud e quindi nell'audit log ci sarà anche l'utente anche se è di led up sigla il problema qual è? il problema è capire chi ha cancellato un file o creato un file in una cartella o ha modificato un file e sapere chi l'ha fatto quindi per fare questo bisogna abilitare l'audit l'audit su linux è un servizio un demone che è in ascolto proprio su un file sul file system poi ovviamente voi decidete anche quali cartelle perché applicarlo a tutto il file system è un po' sconsigliato perché aumenterebbero le risorse si può fare perché rispetto a windows linux lo regge meglio come come audit però è preferibile scegliere delle cartelle e monitorare quelle quindi una volta che avete abilitato la regola di audit questo si fa col demone auditd che appunto resta in ascolto in base alle regole definite lui quando viene creato modificato cancellato un file in quella cartella che fa parte delle regole lo registra in un log quindi andiamo alla soluzione eccoci qua ragazzi allora immaginiamo di voler abilitare un audit su tutta la cartella etc quindi la regola che dobbiamo fare noi è appunto questa qui il comando è auditctl-w poi la cartella che vogliamo monitorare meno p sono i permessi che vogliamo che vogliamo monitorare quindi lettura scrittura e modifica w a r stanno per stanno per w scrittura a e appendare lettura poi volendo ci può aggiungere una x anche per monitorare l'esecuzione per esempio meno k è semplicemente una keyword che diamo alla regola non è niente di particolare quindi abilitando questo comando l'audit in quella cartella innanzitutto vediamo se ce l'ha preso con auditctl-l vedremo che la regola è stata acquisita quindi adesso noi andiamo a creare un file dentro etc che lo chiameremo prova audit poi lo andiamo a cancellare lo andiamo a cancellare dopodiché se noi andiamo ad aprire il file var log audit auditd.log vedremo che sicuramente abbiamo bar caminarsi in questo log è un po' un casino comunque eccola qua questa è la registrazione del delete e immagino che poco sopra mi troverò la registrazione del create allora vi spiego anche come si legge questo log questo è il delete e questo qui è il create eccolo qua object type create allora come si legge questo log vabbè il type è che tipo di oggetto è un path quindi un percorso item 1 il nome dell'oggetto lineode dell'oggetto il dev in quale device si trovava sono mi sembra le prime cioè le prime caratteri decimali del device del disco il mode vabbè questo è semplicemente i permessi del file oid l'id e lo gd dell'utente essendo stato rotta da crearlo e a cancellarlo noi sappiamo che la gd della uid di root è 0 poi abbiamo altri valori che ci interessano meno comunque c'è la pagina ufficiale delle dart che ve li spiega ve la posterò sotto questo video e quello che ci interessa è l'objet type create e basta il resto poi ve lo andate a vedere se volete ci dovrebbe essere anche questo che è invece il timestamp perché nellmsg audit c'è anche il timestamp con l'ora e la data di esecuzione per convertire il timestamp in un formato leggibile io di solito uso questo comando osearch-ts-today-i poi faccio una grep di quello che voglio cercare se io non faccio la grep lui mi fa vedere tutto il log con ora e data e ora leggibili se faccio la grep praticamente vado a cercarmi il log che interessa a me in questo caso era la creazione e la delete di appunto eccolo qua la delete e la creazione di quel file di prima ultima cosa da dire se vogliamo togliere la regola che abbiamo creato dobbiamo lanciare lo stesso comando però invece della v minuscola doppia v maiuscola a quel punto la regola è tolta se andiamo a fare di nuovo un meno l per vedere le regole le regole configurate vedremo che la regola non c'è più ultima cosa da dire è che queste regole al riavvio della macchina vengono perse quindi per mettere definitive è sufficiente aprire questo file che è etc.audit.rules vabbè io non ho vim e andare a mettere all'interno del file la regola ovviamente togliendo l'odctl davanti quindi andiamo a mettere qua la regola dobbiamo però ricordarci che il meno v è minuscolo una volta fatto questo al riavvio della macchina la regola ve la trovate comunque inserita detto questo spero che il video sia stato chiaro e semplice e niente andiamo alla conclusione eccoci abbiamo visto come creare un job di auditing di un file system di una cartella specifica poi chiaramente una volta che c'è il log se lo puoi elaborare come più gli piace lo puoi buttare su un syslog lo puoi buttare su un sistema centralizzato tipo lasty search eccetera e poi farsi chiaramente i propri report ringrazio per aver seguito il video vi invito a mettere un mi piace a condividere il video e iscrivervi al canale e a ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona la prossima video Grazie a tutti